Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Cammarata, Cianciana, Menfi, Santa Margherita Berice, Santo Stefano e Quisquina. Sono questi gli otto comuni ai quali gli uffici dell'ATI hanno accordato la possibilità di continuare a gestire le risorse idriche autonomamente nel rispetto dell'articolo 147 bis della legge sull'acqua pubblica che consente tale facoltà a quelle municipalità che ricadano all'interno di parchi naturalistici dove insistono sorgenti specifiche. La decisione delle scorse ore ha già visto esultare Francesco Cacciatore, primo cittadino di Santo Stefano, il quale parla di fatto storico che scrive la parola fine ad oltre 14 anni di lotte, rivendicazioni e dispute giudiziarie. Cacciatore, che si rammarica di non poter organizzare una manifestazione pubblica di festeggiamento per le restrizioni imposte dal coronavirus, chiama in causa le amministrazioni che lo hanno preceduto, Giunte, Presti e Leto, Barone, con le quali intende condividere questo successo nonché con i cittadini ed il comitato civico per la difesa delle risorse idriche. Se otto comuni ce l'hanno fatta, per altri nove, i cosiddetti comuni ribelli pretendenti allo stesso riconoscimento, Lati ha bocciato le rispettive stanze, inevitabilmente si annunciano ricorsi.